Emergono novità importanti in merito alla morte di Pierpaolo Panzieri. Il 27enne è trovato senza vita lo scorso lunedì 20 febbraio nella sua casa in Via Gavelli a Pesaro. L'autopsia eseguita ieri dal dottor Angelo Montana dell'Istituto di Medicina Legale di Ancona racconta di un omicidio davvero feroce. L'esame, durato quasi 7 ore, ha evidenziato ben 5 coltellati alla gola e 10 alla schiena, fendenti ben assestati che avrebbero provocato anche la rottura di costole. Confermata la presenza dei tagli sulle mani, segno che Pierpaolo ha lottato per difendersi dall'attacco dell'amico. I due, come già successo altre volte, avevano cenato insieme. Lo confermano i resti di cibo che Pierpaolo aveva in corpo. Il movente è ormai chiaro. Al centro della furia omicida ci sarebbe la gelosia. Michael Alessandrini avrebbe intercettato alcuni messaggi scambiati tra una donna di cui si era invadito e il suo amico. L'idea di una presunta relazione tra i due avrebbe scatenato l'ira del trentenne sfociata poi nell'omicidio. Alessandrini è attualmente in stato di fermo in Romania. Si è opposto all'estradizione che comunque avverrà a metà aprile.